Voglio mangiare l'ombra fugace delle tue ciglia. E affamato, vado e vengo cercandoti, cercando il tuo cuore caldo. Ovunque sei la pizza che vuoi. Presidente Gragnola, bando del crowdfunding, c'è stata un'ampia risposta che penso possa essere ritenuta soddisfacente. Sì, siamo molto soddisfatti di come ha risposto questa nostra sollecitazione, questa nostra iniziativa sul territorio. Avevamo in consiglio di amministrazione stanziato una somma pensando di finanziare 5, massimo 10 progetti. E invece c'è stata una risposta molto importante perché abbiamo ricevuto addirittura 23 progetti. Quindi ci sono state sottoposte 23 iniziative. Di queste la Commissione ha fatto un primo vaglio. Devo dire che c'è stato un contributo importante anche dei nostri partner, che sono la Rete del Dono e il centro servizi del volontariato nel analizzare il contenuto di questi progetti. E poi in consiglio di amministrazione, alla fine abbiamo deciso di finanziare 13 progetti rispetto ai 10 originariamente previsti, stanziando ulteriormente altre somme. E quindi siamo molto soddisfatti di questa risposta che ci è arrivata dalla nostra comunità. Anche in merito al contrasto alla povertà c'è stata un'ampia attenzione della Fondazione con un altro bando. Sì, un altro bando di 100.000 euro per questo importante settore. Quindi abbiamo stanziato 100.000 euro per il bando povertà. Anche quest'anno verranno privilegiati i progetti che vedono anche la collaborazione di più enti proprio per creare rete e per fare sì che soggetti che svolgono anche iniziative comuni possano gestire in modo assolutamente efficiente questo tipo di attività sul territorio. Voglio mangiare l'ombra fugace delle tue ciglia e affamato vado e vengo cercandoti, cercando il tuo cuore caldo. Ovunque sei la pizza che vuoi.